Salve carissimi amici, tutt'ubi, sono Francesco e bentornati nella soffitta di camera mia o benvenuti se è la prima volta che venite a visitarla. Quest'oggi parliamo di Topolino 3300, un topolino che ho avuto modo di leggere quest'oggi rispetto a quando sto facendo questo video, quindi venerdì, ma non in versione cartacea versi in edizione digitale, in quanto non mi era arrivato, mi è arrivato oggi, penso, dopo che ero andato al lavoro ma se per chi mi segue su Instagram sa bene che quest'oggi ho portato via con me, tant'è che ve l'ho fatto vedere esplicitamente anche su Facebook, il Paper Sera. Hanno fatto questa versione giornale come se fosse un giornale vero un contatto di editoriali più o meno interessanti, qui c'è l'editoriale di Paperoga che ci spiega bene come usare un giornale, c'è Paperonde e Paperoni che con l'intervista è tutto, c'è l'eco della macchinetta, c'è gli affari come stanno andando, ci sono le ultime nuove sul cucuzzolo del misantropo, c'è come è strutturato la redazione del Paper Sera, tante cose carine, c'è un test come se fosse effettivamente un giornale vero, tra virgolette, ma è finto ovviamente. Non mi ho fatto vedere l'ultima pagina perché la guarderemo adesso tra poco, si tratta fondamentalmente, chiaramente, di una promozione principalmente a due cose, una al Cartomics che ci sarà dall'8 al 10, 7, 9, non mi ricordo, quel periodo lì di marzo, quel fine settimana lì, non ci sarò per tanti motivi, ma è interessante che abbiano voluto fare questo, e perché vi dico questo? Perché nella parte finale di questo, dall'8 al 10 perché c'è scritto qua, che al Cartomics sarà possibile trovare, tra le altre cose, anche queste novità in particolare. C'era una volta in America volume 4, che ancora non è presente con una copertina, i due volumi dedicati a Silvia Ziche, o meglio, il volume di Tesori Disney con ancora la copertina Work in Progress, perché questa qui non è la copertina ufficiale, il portfolio di Silvia Ziche, la Super Deluxe di L'Impero Sotto Zero, e il volume con le storie del cinema di Topolino, come potete vedere già in edizione con una cover che penso sarà quella definitiva, molto molto carina, non vedo l'ora di averla tra le mani, perché è un volume che mi intriga, cioè le storie le conosco, però sembra una cosa abbastanza curata, e ci spero sinceramente, visto come sono andate le ultime cose in casa Disney. Ma il colpo, ovviamente, principale, la notizia principale, è che arriva fa per sera una nuova collana, per quanto viene definita una miniserie, non ha senso, una miniserie è una miniserie, questa è una vera e propria collana, con da notare che il logo sarà lo stesso, o almeno se questa qui è l'immagine definitiva della copertina, cosa che credo, visto che su un paio di anteprime fa c'era questa stessa immagine ancora abbottata, non definita, però il concetto era questo, si tratta di una serie di storie riguardante il paper sera, quindi il giornale di The Paperone, però sono per lo più, da quello che so, visto che non le ho mai lette, storie di origine straniera. Sono storie americane, di qualche decennio fa in realtà, si tratta quindi di un recupero di queste storie, in modo tale da valorizzarle, e non le ho mai lette, o se le ho lette penso di averne lette un paio, quindi, e poi tantissimo tempo fa quando ancora non avevo questo gusto per storie così vecchie, quindi sono davvero davvero curioso di vedere che cosa ne salta fuori. Lo acquisterò, il primo numero ve l'ho detto senz'altro, l'ho già preordinato in edicola, ma in sfumetteria anzi, ma sappiate che dal 6 marzo sarà possibile trovarlo in allegato al topolino, per quanto ti ho scritto qua, e per le informazioni che si possono trovare in rete sul sito di Pan Distribuzione, il prezzo sarà di 4,50€ nel bundle paper sera topolino. Non so quale sarà il prezzo del paper sera, sinceramente, ma credo che sarà poco più alto, poco più basso, dei quei 4,50€, quindi non lo so, credo che fosse... qua non è segnato, e la cosa non mi sconfiffera, perché tra gli altri prodotti è segnato, quindi non vorrei che fosse effettivamente venduto obbligatoriamente con topolino, e io abbia fatto un ordine in fumetteria per un albo che non arriverà mai. Contatterò... ho già contattato in realtà il servizio clienti dell'abbonamento, per avere delle informazioni, vedere se mi danno dei contatti, qualcosa con cui sentire sta roba, visto che comunque si parla del 6 marzo, non è che parliamo di mesi e mesi nel futuro. E il primo albo lo vorrei, sinceramente, quindi non so se prendere effettivamente comunque questo topolino di default, o se aspettare che arrivi in fumetteria. Io mi auguro che arrivi anche in fumetteria. Detto questo, quindi, anzi, sul prossimo topolino che sarà il 3301, 3301 sarà possibile leggere, e questo qui lo sappiamo da questo numero nello specifico, ve lo faccio vedere subito, Zeo Paperone, Bianco Papero. Questa storia qui dovrebbe essere la prima del ciclo di Paper Sera, quindi si dovrebbe trovare anche nel primo volume di Paper Sera, però, ecco, è interessante il fatto che venga valorizzata. Possiamo anche vedere, qui, abbiamo, si può vedere, parlando sempre di Cartomics, la copertina definitiva del volume del Tesoro Disney di Silvia Ziche è un accenno di C'era una volta in America, molto molto carino, con quello che credo che si chiami Pip Carson, che dovrebbe essere l'ultimo Pipide della saga di C'era una volta in America. Penso che nei prossimi giorni rileggerò i tre volumi che sono già usciti, in realtà c'è tempo, visto che dovrebbe uscire fisicamente il volume il 10 di marzo, ma li rileggo più che volentieri. Detto questo, tuffiamoci su questo topolino, che, ciao, ho un paio di cose da dire, non saranno tantissime, ma cominciamo alla grande. La storia d'apertura è di Vito Stabile per i disegni di Stefano Zanchi dal titolo Paperino e il bastone Tubetano, e, ve lo dico fin da subito, è una bella storia di apertura di questo topolino, la copertina si riferisce a questa storia, la copertina del tutto è molto molto bella, credo che sia stata disegnata da Andrea Freccero, però non ne sono sicuro al 100%, non l'ho controllato. I disegni di Stefano Zanchi a me erano sempre piaciuti, perché era un disegnatore molto abile, era molto giovane. Adesso che sta cominciando a rodarsi e a definire il suo tratto, quello che ho notato è una pulizia veramente maniacale. È uno stile che mi ricorda molto quello di Andrea Freccero, quindi la copertina di Freccero ci sta alla grande, e il fatto che Freccero di per sé mi sembra molto squadrato, molto statico, per quanto bello e piacevole, mentre Stefano Zanchi è ancora giovane, fresco e molto dinamico, quindi è uno stile che lo ricorda nella sua gradivolezza, ma ha la dinamicità di Stefano Zanchi. In definitiva è uno stile di disegno, secondo me, molto molto valido. La storia si basa molto su Paperino, un Paperino che vuole fare bella figura con i nipotini, che proprio per questo invastisce un viaggio con lo zione in un paese straniero, in una cultura straniera, alla ricerca di questo bastone tubetano. La storia ha da un lato qualche richiamo ciminiano, perché il paese è lontano, il posto è lontano, la ricerca del tesoro è lontano, ma nel contempo qualche richiamo barxiano c'è. Il Paperino, assoluto protagonista della vicenda, colui che muove un pochettino l'azione, colui che comunque è l'assoluto protagonista della vicenda, che non si fa scrupoli, come vediamo all'inizio di questa storia, a, diciamo, mettere in difficoltà lo zione. Insomma, qualche dettaglio barxiano, qualche dettaglio ciminiano, una fusione perfetta di questi due autori, in una contemporaneità che è quella nostra presente. Gli strumenti che vengono usati dal protagonista, sono quelli che ci sono adesso, nel 2019, che, ovviamente, Carl Barks e Rodolfo Cimino non potevano usare, perché non c'erano quegli strumenti. Però, c'è da dire una cosa, il fatto che si usino così bene, cioè, la storia è amalgamata bene, non hai il senso del, oh, Dio, è una storia moderna. No, è una... Sì, è una storia moderna, ma è una storia che, probabilmente, se certe invenzioni, certe tecnologie ci fossero state negli anni 40, Carl Barks le avrebbe utilizzate nello stesso identico modo. Vito Stabile, come autore, mi piace, mi piace perché riesce ad essere estremamente tradizionale, ma ad essere contemporaneo, attuale, ed è questo di cui il topolino ha bisogno. Una storia come questa è sicuramente lodevole, ed è sicuramente da lodare, soprattutto per il ruolo che viene dato a Paperino, che, per quanto abbia a fianco a sé la figura importante di Zio Paperone, riesce ad emergere come assoluto protagonista della vicenda, con unozione che è elemento secondario in una storia che sembra essere una ricerca di un tesoro, cosa piuttosto strana, ed è proprio anche per questo che Paperino... che è una storia che mi ricorda Carl Barks, perché Paperino ricercava a sua volta tesori, a seconda delle trame che Carl Barks investiva. E quindi è una storia fatta bene, è una storia molto molto piacevole, che riesce a dare anche questo senso di profondità al personaggio di Paperino, che ultimamente finisce per essere l'accompagnatore dello zione, e non il promotore di vicende. Storia quindi molto... al di là di queste cose, che sono un pochettino l'analisi del perché la storia mi è andata a piacere, è una storia veramente piacevole, veramente molto molto bella, ed è effettivamente la storia di punta di questo album, la migliore in assoluto, tant'è che mi piacerebbe vederla, ecco, in un futuro, e si merita... questa qui si merita, secondo me, quasi di diritto on the best of Paperopoli, quel che sarà, perché... non... ci saranno storie migliori in questo 2019, eh, me lo auguro. però questa è, secondo me, è un punto da cui ripartire per fare fumetti di Topolino con Paperino come protagonista. Proseguiamo invece con il conte di Anatram, di Marco Bosco, per i disegni di Nico Piccone, non so dilungarmi troppo sulla questione disegni, dal punto di vista della trama, alcune sottotrame giungono finalmente alla loro conclusione, altre si stanno sviluppando in maniera molto interessante, non vedo come un pochettino la sottotrama principale di Paperino e Paperina si possa andare a chiudere solamente in un episodio, c'è effettivamente molta carne al fuoco e non so come si possa chiudere il tutto, ed effettivamente questo conte di Anatram, che dovrebbe essere un po' il motore di tutta l'azione, non è così, cioè, gli si poteva dare un altro titolo a questa serie, avrebbe avuto senso. Perché dare questo titolo alla storia per renderla appetibile al pubblico? Mi sembra un pochettino poco come motivazione. La storia, al di là del titolo, è piacevolissima, prosegue molto bene, non troverà spazio, ecco, non dico voglio, sicuramente non troverà spazio in un The Best Of, perché è troppo lunga, però un volumetto brussuratino a parte se lo facessero vi direi perché no. Non penso è con La Limite Deluxe, principalmente perché Nico Piccone sarebbe, secondo me, veramente difficile da sopportare in quel formato lì. Ed è un po', secondo me, il difetto grosso di questa storia. Non ha un disegnatore all'altezza, ed è indubbiamente un peccato. Gabriele Panini e Francesco Di Polito ci portano invece in Wizard of Gamba a passaggio a bordo. Storia breve. Allora, non riesco a capire, cioè sembra che, a parte il primo capitolo di questa mini, gli altri siano una storia puntate. Non è che sembra, lo è, però non lo sembrava all'inizio. Mi è sembrato abbastanza evidente nel secondo, un pochettino nel terzo episodio, in questo è proprio lampante. questo viaggio che Gamba sta facendo e a cui si sta facendo conoscere quelli che poi sono personaggi ricorrenti in Wizard of Mickey. Si tratta di una mini serie ambientata nel, una mini di mini episodi ambientata nel passato, però Gamba di legno non è quel Gamba di legno di Wizard of Mickey. Sembra centrare poco o nulla. Cioè, è un Gamba di legno normale trasportato in una chiave fantasy. non è quello di Wizard of Mickey. Non lo è ancora in realtà, perché concettualmente questa è l'idea. È ambientata così talmente tanto nel passato che lui non è ancora lo stregone malvagio che conosciamo. Però è un po' poco come collegamento. E molto probabilmente è una storia pensata diverso tempo fa. Ne ho fortemente la sensazione. E quindi è stata tirata fuori come riempitiva. che voglio dire secondo me non riesce neanche a trattenere troppo. Però diciamo che può fare il suo. Pietro Zemmelo e Giovanni Rigano invece ci consegnano il miglior episodio di consegne Paperino e Paperoga con dolce a domicilio. Devono inviare un pacco a Nonna Papera e succederanno un po' di gag divertenti e un po' di situazioni particolari visto che viene utilizzato Paperino e Paperoga Nonna Papera e Ciccio. Non vi dico che cosa succede perché già è una breve per lo più è comica e il gusto della sorpresa dona ecco effettivamente qualcosa in più alla storia vicenda carina cioè diciamocelo non è stata questa miniserie così epocale il concept è i nostri hanno un'agenzia di consegne e devono consegnare dei pacchi ok questa in particolare è stata molto gradevole per tutta una serie di gag che si sono succedute le une dopo le altre però nulla di immemorabile diciamo che si lascia leggere bene questa forse è la migliore dell'otto poi oltretutto Valentina Camerina e Gigi Piras in Topolino e il mistero multiplo della valigia scambiata siamo all'inizio del novecento si può postarci una storia in costume Topolino scusate prende un treno c'è la sua valigia c'è qualcuno che sta compendendo dei furti di valigie nello specifico ma non del loro contenuto che viene travasato in altre valigie c'è qualcosa di strano degli scambi multipli per l'appunto del titolo e Topolino che indaga per capire cosa stia succedendo senza infame senza lode è una storia media lunga ma che si c'ha nel coprotagonista che è questa signora anziana con cui Topolino dividerà il viaggio un elemento comico anche piuttosto importante ma alla fine si lascia dimenticare abbastanza in fretta al punto che dovrei rileggerla per ricordarmi certi passaggi di questa storia e l'oretta per l'appunto solo stamattina chiude l'albo una storia di Giulio D'Antona per i disegni di Marco Meloni Zio Paperone la palandrana autoadattante è una storia del ciclo Paperopoli Film Festival cioè questo ciclo di storie legate al mondo del cinema per qualche motivo e in questo capitolo nello specifico si affronta la tematica dei costumi di scena la storia è una di quelle tantissime storie dove Archimedia ha un'invenzione Paperone lo vuole sfruttare succede qualcosa succede un disastro Paperone in un qualche modo si stema la situazione classico classico cliché non c'è nulla di nuovo nulla di sotto quello che è la trama di base carina l'ambientazione perché è qualcosa di un pochettino particolare carina l'idea di avere dei vestiti che possano mutare quindi oggi c'ho questa felpa domani c'ho uno scafandro però basta cioè alla fine è tutto qui il concept della storia e non è allora non è brutta non è una storia brutta per chi mastica storie disney da molto tempo sa di già visto probabilmente per un nuovo lettore è comunque un fatto non dico che sia un fattore di novità anche perché vabbè di base io sto leggendo storie disney da vent'anni circa forse qualcosina di più è difficile trovare storie che siano totalmente nuove c'è anche la storia di apertura di questo topolino non la definirei nuova però c'è delle idee che non sono usate da molto tempo o sono poco sviluppate e di fatto questo topolino qui ha questa storia di apertura molto forte una buona quarta parte del conte di anatram e quindi il topolino se state seguendo il conte di anatram e vi sta piacendo c'ha questo blocco iniziale molto forte una parte centrale con le due brevi e la prima media lunga con topolino abbastanza dimenticabili e questa storia di chiusura che non è brutta in senso assoluto però a livello di uno che ne ha già lette tante di queste storie potrebbe non piacere particolarmente o risultare un pochettino pesante pedante proprio perché è un more of the same né più né meno topolino quindi che secondo me mi dispiace dire di non acquistare questo topolino per la storia d'apertura che è proprio bella è una bella avventura però ecco se non seguite il conte di anatram l'unico punto di forza l'unico motivo per comprare questo topolino sarebbe la storia d'apertura e vogliarvi con 30 pagine è un pochettino poco me ne rendo conto però probabilmente è tra le migliori storie di questo periodo ultimamente topolino stanno andando secondo me piuttosto bene hanno una buona qualità quindi sintomo che la cura bertani sta dando i suoi frutti vedremo cosa succederà nel prossimo numero dove si chiuderà tra le altre cose il conte di anatram e dove avremo un assaggio del papersera come sarà non me lo aspettavo questa scelta di ristampare la prima storia del papersera sul topolino si tratta di una vera e propria ristampa non è una novità in senso assoluto di ristampare storie sul topolino cioè il topolino è sempre il contenitore di inediti però di tanto in tanto in occasioni particolari con storie sono state ristampate e in vista di un lancio di una testata ci può stare invogliare il lettore con una storia vecchia ma legata a quella nuova testata io approvo approvo abbastanza non è una scelta che mi faccia impazzire però ci sta alla grande diciamo che quando hanno fatto delle ristampe erano cose molto più particolari mi sa principalmente per la morte di car barks per i 50 anni di topolino per i 60 anni di topolino forse i 50 che avevano fatto le 5 storie più belle una per decade e lì avevano fatto davvero un bel bel lavoro e insomma in definitiva non è una novità ristampare storie però ci sta il video sta avvenendo anche forse un pochettino più lungo di quanto volevo quanto avevo preventivato quindi andiamo in chiusura qui sotto nello spazio dei commenti aspetto vostra opinione avete letto questo topolino che cosa ne pensate avete visto il foglio del paper sera il giornale del paper sera se l'avete letto che cosa ne pensate vi è piaciuta come idea come spunto di marketing per lanciare una nuova testata a me come idea è piaciuta particolarmente devo proprio ammetterlo qui da Francesco è proprio alle mie spalle dalla soffitta di camera mia non più soffitta è tutto e noi ci vediamo ad una prossima video opinione del canale ciao 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 ciao